La cultura per ricostruire un rapporto di fiducia, l'indispensabile per aprire la società al futuro. Il PD serra i ranghi e lo fa, reaggo mitolando la riflessione lungo e il filo d'Arianna della cultura. Nella chiesetta di San Sebastiano, le spalle del Duomo di Lecce hanno dialogato di questo, tra gli altri Massimo Brahi, candidato alla Camera per il Partito Democratico e presidente della Fondazione Notte della Taranta, e Franco Cassano, capolista alla Camera per i Democratici e sociologo del pensiero meridiano. Con loro docenti, musicisti, filosofi, storici, giornalisti, volti noti e non. Non si tratta dell'alternativa tra cultura sì e cultura no, è stato detto, ma della scelta tra una cultura con determinati valori e un'altra che li esclude, tra una consapevolezza di dover investire nell'istruzione, nella valorizzazione del patrimonio storico monumentale, nella necessità di non far ritornare le università a luoghi accessibili soltanto per censo, e chi ritiene invece che con la cultura non si mangia, in Italia come nel Salento. La cultura è un grande collante, la cultura non ha barriere, la cultura deve servire appunto a disegnare quello che a me piace dire un futuro a colori, in quella convivenza civile che può unirci, può fare comunità, può dare le opportunità a tutti di mostrare il proprio talento, di esprimere le proprie capacità. In questi anni il Salento ha fatto questo. Tre presenti anche alcuni firmatari dell'appello per dare l'infe risorse al di Castello della Cultura perché ritorni ad essere al centro delle politiche di sviluppo del Paese. È stato rivolto a Brei da parte di numerosi intellettuali. Apri pista lo storico dell'Università di Ginevra Andrea Carlino, ma tra gli altri anche i docenti Ferdinando Boero, Eugenio Imbriani, la scrittrice Lidia Ravera, il tenore bolognese Paolo Bertolucci. Una parte d'Italia che guarda qui perché la primavera pugliese contamini il resto del paese, ha detto Cassano. Una primavera prima culturale, poi politica, nata nel 91, con gli sbarchi degli albanesi che hanno aperto la Puglia a nuovi mondi e hanno fatto capire che c'era qualcosa da raccontare anche da qui. Per conservare il frutto di quella primavera non si può rimanere più. Bisogna contagiarla all'esterno, bisogna produrre un cambiamento del governo nazionale, rimettere il sud al centro dell'agenda degli investimenti.